Ciao a tutti ragazzi mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys Oggi siamo su Human Fall Flat E' un gioco bellissimo Che bellissimo, che bellissimo Non so se avevo già portato un video su Human Fall Flat ma tipo millenni fa Ehm... Niente, un gioco bellissimo, troppo bello Intanto mi sono già personalizzato la skin prima Leo Allora, seleziona modalità Locale, vediamo, online Guardate Allora, indietro Facciamo locale Abbiamo una partita, si Però volevo scegliere io i livelli Ok, allora, cos'è questo? Sì, lo so come si gioca Human Fall Flat Sì, lo so No, no, però lanciare non lo so fare Come si lancia un oggetto? Non lo ricordo Grazie Tieno stretto Grande Sì Ah Quindi appena lascio Eh, scompare Ok, sei zitto Ho capito come si gioca in Human Fall Flat Lo so fare Sono capace Il pulsante Il pulsante Il pulsante I Ok Due pulsanti Devo cliccare contemporaneamente Vediamo Uno Eh, mi sono aggarpato E due Ok Ok, va bene Non c'è bisogno che Dai Guardate sta statua Vabbè Ok È bellissimo avere questo mio personaggio È veramente Ok, così adesso Sì, uno E l'altro Sì Mi lancio Ogni volta che si finisce un livello Su Human Fall Flat Bisogna lanciarsi Leo Ahia Sono schiantato Oh, il treno Un treno Allora Tanto che Scusate però Ci sono Dei Ah C'è una porta qua dietro Aspetta che tiro via sto cassonetto Allora C'è Ci sono dei tizi Che stanno lavorando Non in casa nostra Fuori E Poverino Cado Oddio No Aspetta Vieni qua Respawnato perché è caduto Non deve cadere Se no Respona Poi rimaniamo bloccati Allora Di qua Ah Bello Figo Un puzzle È fighissimo Sì Fai così Tac Un puzzle nel senso che Devi capire quello che C'è Bisogna spostare le rotaie Cioè I binari Vabbè E questo lo devi buttare nel vuoto O no Non si può buttare nel vuoto Aspetta un attimo Si deve per forza Si deve per forza buttare nel vuoto Perché se no Ecco Ah Vabbè Salvataggio Adesso Ah ok Devo semplicemente spingere questo di qua Così salto lì È fighissimo sto gioco È tanto bello Così Vai Vai Meglio tirarlo da qua Vai Adesso mi schiaccio Ok Allora Ah io Ah lì Ok Allora Salta Non ce l'ho fatta Allora tiro un po' indietro È durissimo tirarlo Vai Ok Adesso Tecnicamente dovrei farcela Tutti e due È bellissimo il modo in cui si rialza E come cammina Ui Poi c'erano dei miei amici Che volevano prenderselo Solo che Non possono Poverini Io che volevo fare di compra come regalo Ma neanche io posso fare questa cosa Perché Poi pagavo in tutto 30 euro WII Non ce l'ho fatta Ehm Allora Ho un'idea Non ho nessuna idea Ah forse Ci riesco A salire qua Aspetta un attimo Ok Magari Potevo salire dal treno Direttamente già da prima Ci passo qua sotto Se mi abbasso Ci passo Aspetta No Secondo E' strano E' strano Sto gioco Sto gioco Allora Provo a spingere Questo da quest'altra parte Quello Questo qua L'è in fondo Ok E' già Da qua Dovrei farcela Salire Si WII Yeah Ok Adesso Qua devo saltare Ok Ce l'ho fatta Anche senza aggrapparmi Adesso Ah Ok Iii E salgo qui E tecnicamente Se mi butto Ah La mi devo buttare Scusa Se mi buttavo Da Lì giù No No Se mi buttavo da là Che vi sto indicando Lì Nessuno sca... Oh Perché sono qua? Scusami un attimo Ma non è... No Ma non è... Perché? Aiuto Ma Non mi ha contato Il coso Perché sono io qui? È sempre lo stesso Sì È bellissimo Sto gioco Già ve l'ho detto 500 milioni di volte Ma ve lo ripeto Un altro È bellissimo Sto gioco Allora Qua non c'è niente Mi devo lanciare qui WII Ok Salvataggio Caricamento Ok Ah Questo lo so Vediamo Scatolo Lo porto sul pulsante Poi so che ci sono anche Delle dè Tranno tipo Su human poltlet Ed è bello Kadit Coso Kadit Ho detto Qui Questi qua Che Bastonano le orecchie Allora Questo bisogna Ah no aspetta Fallo scendere Prendi la scatola La metti sopra La metti sopra E Fai salire Tac Pulsante Poi prendi la scatola E la vai a depositare sul pulsante Questo Vai Ok Qua cosa c'è La parete divisoria Saliamo sopra La parete divisoria Così saltiamo il livello Aspettate Ma si può saltare direttamente là So stupido allora La gente di questo livello È stupida Aiuto Aggrappati Leo La puoi fare Oddio Oddio Aggrappati là Sì Sono forte Tipo Adesso No vabbè No vabbè Schifati il livello Ok Allora Ma se cado sopra questo pavimento Morisco Non credo Muoio Va bene L'ho detto apposta Ragazzi Eh Qui Non credo Perché c'è anche il telecomando Qui Qui Ok Vai 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 Salta Vai Un altro telecomando Cosa mi serve Quest'altro telecomando Scusi Vediamo cosa mi dice A rampicarsi A rampicarsi Mi ispira Facoltativo Sì Lo so So che si fa così Va bene Andiamo L'ho fatto Fino all'inizio video Allora E' un altro E cos'è Quest'altro Ok Lo so che Ma no Non so neanche dove mi sto rampicando Aiuto Ok Allora Qua c'è un'altra cosa Non so se lo devo avvicinare Vai avvicinati Ok Tecnicamente dovrei farcela Ok L'ho fatta Salto qua sopra Ok Cosa Eh da qua Non si potrebbe arrivare Oh oh E adesso Quindi avevo fatto bene Salire là sopra Vado là sopra Ritorno là sopra Allora Vado Vado E' bello questo gioco Basta Leo Parlo in terza persona Perché Boh Salto E' bellissimo Quando si lancia Wii Bello Ok E adesso Ah Fico Eh allora Corri 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 Salta Va bene No Ho fatto bene a spingerlo qua Che non ne sono sicuro Ce la faccio No Vediamo se Ok Così si alza Al contrario E allora Da qua Comincio a correre Con le mani alzate Salto Tantissimo Ok Vai E va bene Mi ha grappato Cattivo Ok Ehi Oh Salta Mamma mia Al pelo Ok Io sto parlando solo di salta Salta E basta Allora Come sale le scale Sbatte i piedi Come fai A rimanere in piedi Sbatte i piedi Come fai a rimanere in piedi Ma queste sono le porte di minecraft Wow Ui Altro Vai Anche se potevo sbattere a faccia E aprire così Vabbè Scassiamo Ribaltiamo i divani Chi se ne Fregge Chi se ne importa Alziamo i divani E lanciamo i cuscini Per vedere se ci sono i telecomandi Come ha fatto a vedere all'inizio Tanto io non le voglio guardare il telecomando Magari qua Non è là Aspetta Manca questo Alzati No eh E allora scasso tutte le casse Butto Sì Sono forte Ho scassato il vetro Aspetta TV Alzati No aspetta Prendo la cassa E la sbatto contro la porta Così Aaaaa Aaaaa Mi appendo Aaaaa Mi appendo Mi appendo Aiuto Aiuto Mi appendo Mi appendo Ah Mi appendo Mi appendo Mi appendo Mi appendo